Il disco di Newton. Attività. Impugnare la matita, fare girare velocemente la trottola. Più veloce sarà la rotazione della trottola e meno nitidi saranno i colori degli spicchi, sino ad apparire di un unico colore bianco. Nel 1672 lo scienziato Isaac Newton, già docente di matematica a Cambridge, venne eletto socio della Royal Society, un'insegna associazione che si occupava di diffondere le nuove scoperte della scienza. Nello stesso anno Newton presentò alla Royal la sua teoria sulla luce e i colori, che con un esperimento dimostrò che un sottile raggio di luce bianca, allorché attraverso un prisma triangolare di vetro si decompone, producendo la gamma di colori dell'arcobaleno. A partire dall'osservazione dei colori dello spettro, Newton disegnò il cerchio dei colori sul quale i colori dello spettro venivano riportati in settori, la cui larghezza era in relazione a quella osservata nello spettro. La posizione dei colori sul cerchio definitiva, le relazioni di qualità tra i colori stessi. Newton giunse inoltre alla conclusione che il colore degli oggetti che ci circondano è legato al modo di reagire delle superfici alla luce. Un oggetto rosso ha questo colore perché trattiene tutti gli altri colori e ci spedisce quindi indietro solo il rosso, escluse del tutto la possibilità che al buio vi potessero essere dei colori, proprio perché i colori sono inscindibilmente legati alla presenza della luce. Osservate queste immagini. Il materiale necessario per realizzarli, guarda, ci vogliono dischi di cartoncino, cd non funzionanti, matite colorate, forbici. Guardate le immagini. Poi archetti di carta nera per oscurare settori colorati, motorino di giocattoli o di piccoli elettrodomestici, per esempio di un ventilatore. La persistenza delle immagini sulla retina è responsabile dell'apparente colorazione bianca del disco di cartoncino. Rallentando la rotazione è possibile distinguere di nuove colori dei diversi spicchi. Oscurando con gli archetti di colore nero i diversi settori e facendo ruotare velocemente il disco si osservano delle corone circolari colorate nel colore complementare a quello coperto. Giallo dove si è coperto il blu, perché è la sovrapposizione di rosso e di verde. Ciano dove si è coperto il rosso, perché è la sovrapposizione di blu e di verde. Magenta dove si è coperto il verde, perché è la sovrapposizione del rosso e del blu. In nessun caso si vede il nero, a riprova del fatto che il nero non diffonde nessun colore e che viene visto solo come assenza di colore rispetto alle zone colorate vicine.